Ma non basta non fare il male per essere un buon cristiano, è necessario aderire al bene, fare del bene. Oggi vi esorto ad essere protagonisti nel bene, protagonisti nel bene. Non sentitevi a posto quando non fate il male, no, non basta. Ognuno è colpevole del bene che poteva fare e non lo ha fatto. Cari giovani, in questi giorni avete camminato molto, perciò siete allenati e posso dirvi camminate nella carità, camminate nell'amore. E camminiamo insieme verso il prossimo Sinodo dei Vescovi.